Si è conclusa oggi in Tribunale a Sondrio con una sentenza di proscioglimenti e assoluzioni. Il 95% dei reati sono andati in prescrizione. Una delle inchieste più complesse e lunghe della bassa valtellina che ha visto finire alla sbarra 12 imputati. Amministratori e funzionari pubblici, tra cui l'ex sindaco di Trauna Marcobelli, e imprenditori indagati a vario titolo per abuso d'ufficio, corruzione per atti contrari e doveri d'ufficio, furto aggravato, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazioni di segreti d'ufficio, turbativa d'asta e peculato. In particolare l'indagine verteva sulle richieste di pronto intervento e sulla mancata indizione di gare pubbliche, su reati edilizi relativi alla mancata asportazione del materiale dall'ex discarica della Valletta, l'appalto per il trasporto degli alunni delle scuole e l'epotesi di abuso d'ufficio nel rilascio dei permessi nell'esportazione di materiale dal deposito al confine con Cercino. Un'inchiesta particolarmente complessa che ha richiesto anni di indagine e una volta prodata in Tribunale ha visto avvicendarsi numerosi magistrati, sia giudici sia sostituti procuratori, fino ad un anno fa, quando il presidente Giorgio Barbuto, con i giudici a latere Francesca Roncarolo e Barbara Della Nave, ha aperto il processo pronunciando oggi la sentenza, che ha visto per dieci indagati il proscioglimento per avvenuta prescrizione, mentre due imprenditori, Carnazzola Camillo e Carlo Contessa, sono stati assolti rispettivamente dalle accuse di furto aggravato il primo, perché il fatto non sussiste, turbativa d'asta il secondo per non aver commesso il fatto, disattese dal collegio giudicante le richieste di risarcimento danni presentate dal comune di Traona e da un architetto del paese che si erano costituite parte civile. Ecco le prime parole pronunciate da Marco Belli, vicino al suo avvocato Gino Ambrosini. E certamente da un punto di vista dei sentimenti in questi dieci anni e di una morale che ciascuno dovrebbe avere, oltre che anche l'onestà come nel caso mio, sono stati abbastanza significativi da tenere presente. Le hanno cambiato un po' la vita? Sotto certi aspetti sì, perché per esempio mi hanno impedito di rientrare in politica, ma non mi ha impedito qualcuno, è stata una mia scelta per essere sgombro e non creare problemi ad altri. Con il senno di poi, a fronte di certe richieste, avrei potuto dire di sì. Vogliamo ricordarlo, quella di oggi è una prescrizione nel suo caso? Sì, perché non esiste la prova certa della mia colpevolezza e quindi gli aspetti giuridici finiscono in prescrizione, ma non c'è prova certa della mia colpevolezza. Grazie.